Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 22 aprile e benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. È stato approvato nelle ultime ore il decreto che fissa il calendario per le riaperture, riaperture che, come sapete, cominceranno a partire dal 26 di aprile. Come tutti giovedì mattina leggiamo con voi la prima pagina e le pagine interne di Vita Trentina e ci guida nella lettura questa mattina Augusto Goio, che è proprio giornalista di Vita Trentina, che quindi Vita Trentina l'ha scritta. Buongiorno Augusto. Buongiorno a te e ai telespettatori. L'apertura è dedicata ai vaccini, alla campagna vaccinale che ha avuto, lo sappiamo, in questi ultimi giorni, nell'ultime settimane, una grande accelerazione anche da noi in Trentino. Sì, non a caso, titoliamo lo scatto del vaccino, c'è una immagine del punto di vaccinazione che è stato allestito, un drive-thru, come si dice con questa parola inglese, dove senza scendere dalla macchina si può essere vaccinato. È un'esperanza che molti di noi hanno fatto con i tamponi, ora con questi vaccini, che ci danno delle speranze. I risultati si cominciano a intravedere, ma come ci ricorda il nostro direttore Diego Andreatta, nell'editoriale di questa settimana, è il momento anche della responsabilità. Sottolineo proprio questa parola, forse un po' desueta, ma quanto mai necessaria, in un momento in cui, come ricorda il direttore Andreatta, si va verso anche un clima più favorevole alle uscite, ci sono le riaperture a cui facevi il cenno tu in apertura di questa rassegna stampa, ma appunto aperture che dovranno essere affrontate anche con la dovuta responsabilità, perché ricordiamocelo, insomma, il virus è sempre ben presente tra noi, ci sono delle varianti che in parte preoccupano, non a caso dedichiamo anche un approfondimento poi al discorso della vaccinazione con una pagina che riprende un dibattito molto interessante, è andato in onda online naturalmente, è promosso da FBK con Antonio Clavenna, che è un ricercatore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, che interviene con una serie di puntualizzazioni, otto domande e risposte, che invitiamo i nostri lettori a leggere e anche chi vorrà acquistare Vita Trentina in edicola, che sciolgono alcune perplessità che appunto con questi vaccini possiamo avere, c'è stato il caso appunto di AstraZeneca che ha sollevato diciamo delle perplessità, ci sono qua delle risposte che sicuramente possono essere rassicuranti, ma come dicevo prima l'invito è comunque quello alla responsabilità di tutti e di ciascuno. E questo è proprio l'invito che fa il direttore Diego Andreatta nel suo editoriale, lo sta ripetendo, bisogna dire anche il Premier Draghi molto in questi giorni, non è un liberi tutti quello che ci sarà a partire dal 26 aprile? Certamente no, appunto responsabilità, la parola che usa il nostro direttore, è una riapertura che appunto avviene mentre come ricordavamo prima il virus è ancora tra noi, con le varianti che comunque come ci dice con diversi studi, in parte i vaccini riescono a contrastare e in parte sono ancora oggetto di studio, quindi l'invito alla prudenza e appunto come dicevamo prima rispettare le regole è fondamentale anche per le stesse categorie economiche che sono state duramente provate in questi lunghi mesi della pandemia. Torniamo a scorrere il taglio alto di Vita Trentina per parlare del 25 aprile, per il secondo anno consecutivo sarà un 25 aprile del tutto particolare, perché insomma non ci saranno chiaramente le tipiche manifestazioni per le strade, le tipiche manifestazioni di piazza che solitamente ci sono proprio per quella data. Sì, ci saranno sicuramente degli appuntamenti online, Lampi ha promosso un memoriale online con quelli che una volta completato questo progetto Volti della Resistenza presenterà 500 ritratti di persone, uomini e donne che hanno fatto la storia della lotta di liberazione dal nazifascismo nel periodo dal 43 al 45 e in questo memoriale online riporta anche i ritratti di tre uomini e donne della Resistenza Trentina. Uno di questi testimoni è Renato Ballardini, che è stato a lungo anche parlamentare, che porterà la sua testimonianza in un messaggio che sarà trasmesso nella piazza Cesare Battisti dove è allestita appunto dal 25 aprile al 2 maggio una mostra con dei disegni e delle illustrazioni che presentano appunto personaggi che hanno fatto la storia della Resistenza italiana. Per la prima volta dallo scoppio della pandemia siete entrati alla Casa del Clero che sappiamo è stata veramente duramente colpita proprio dal Covid. Ci sono anche delle foto, è veramente un reportage molto interessante. Sì, le foto sono del nostro Zota, risalgono a un'occasione di qualche settimana fa e quando il Vescovo Tisi si è recato a celebrare per i preti che sono appunto ospitati alla Casa del Clero noi non siamo fisicamente entrati perché ancora non è possibile ma per la prima volta il direttore Marco Maines e alcuni operatori, operatrici raccontano i mesi della pandemia che ha colpito duramente anche la Casa del Clero. ci sono stati degli anziani sacerdoti morti e sono diversi appunto i sacerdoti, anche i religiosi e le religiose che sono rimasti vittime del virus e è una testimonianza inedita appunto che però se vogliamo assomiglia anche a quella di altre case dove sono ospitati i nostri anziani in questo caso appunto è un ritratto che viene sicuramente molto utile anche per capire come il personale e la direzione hanno saputo poi reagire alla situazione anche come vediamo attingendo alla tecnologia, ai tablet o ai telefonini per poter comunicare quello della mancanza di relazioni anche per la Casa del Clero è stato sicuramente ed è tuttora il punto di maggiore sofferenza al di là appunto dei dolorosi lutti. Prosegue il viaggio del settimanale diocesano all'interno degli oratori del Trentino che cosa proponete in questo numero? In questa terza puntata siamo andati a Villa Lagarina un ritratto di una comunità vivace che anche attraverso l'oratorio e le realtà che ruotano intorno ad esso vuole comunque offrire dei momenti di svago, di divertimento nel rispetto delle norme naturalmente e comunque proponendo delle attività che sono state in qualche modo completamente reinventate proprio per far fronte alla necessità di mantenere il cosiddetto distanziamento sociale. Prosegue la Cattedra del Confronto, questi confronti che sapete mandiamo anche in onda qui su Trentino TV. Sì, la Cattedra del Confronto è un appuntamento che purtroppo viene svolto solo online come moltissime altre occasioni, in questo caso sono la focalizzazione su delle parole chiave la puntata di cui raccontiamo è andata in onda lunedì scorso e si parla appunto del concetto di giusto visto dal giurista Luciano Violante e dal teologo padre Occhetta che è un gesuita appunto teologo e offrono appunto una serie di interpretazioni di questo concetto che viene così anche molto utile in questo periodo di pandemia in cui siamo un po' costretti tutti a fare il conti con delle regole che non sempre vorremmo accettare facilmente. Non dimentichiamo che il 22 aprile, cioè oggi, è la giornata della Terra anche proprio in chiusura poi di mattino insieme ci sarà uno speciale curato da Asfron che noi vi proporremo, ne parlate anche questa mattina su Vita Trentina. Sì, la giornata della Terra il 22 aprile è un'occasione voluta delle Nazioni Unite per ricordare la necessità di una cura del pianeta il motto di quest'anno, di questa edizione che è la 51esima potremmo riassumerlo come in qualche modo ripariamo la Terra prendiamoci cura di essa e ci sono degli appuntamenti di cui parliamo che si svolgeranno anche in piazza a Trento, al Parco delle Albere ma c'è anche una lunga maratona televisiva di cui parliamo che vede coinvolto anche il Museo delle Scienze di Trento il Muse con una focalizzazione, un accento proprio rivolto ai giovani e al ruolo che si possono svolgere per la cura del pianeta Poi andando a fare un giro nelle valli trentine come sappiamo ogni settimana voi proponete la cronaca un po' o storie che vengono proprio dal territorio trentino questa mattina che cosa ci segnali Augusto? Abbiamo delle esperienze nelle nostre valli in cui c'è un recupero proprio del territorio per esempio a Folgaria con la Banca della Terra che è un'iniziativa della provincia autonoma di Trento a Folgaria è stato attraverso un bando pubblico sono state messe a disposizione delle risorse e quindi chi ha dei terreni che non è in grado non può coltivare li mette a disposizione di chi invece può seminare appunto e raccogliere poi dei frutti è un'esperienza analoga anche riguarda invece appunto un'iniziativa che si chiama Semina Comunità di cui parliamo in un'altra pagina delle nostre pagine di valli di corrispondenza del territorio e anche in questo caso sono tutti segnali di un'attenzione al territorio, all'ambiente che credo si sposino bene anche con proprio il tema della giornata odierna della Terra Questa mattina, questa settimana assieme al settimanale di Occesano c'è anche Come Amici di che cosa parlate questa settimana? Come Amici è la rivista del seminario e in questo caso domenica 25 aprile è la giornata per le vocazioni quindi è un numero in qualche modo che riflette questa attenzione anche per chi in qualche modo vuole coltivare la propria vocazione anche verso una risposta che sia di servizio alla comunità attraverso il sacerdozio all'interno del giornale abbiamo anche una testimonianza di un diacono che racconta proprio questa sua scelta e l'attualità anche di mettersi a servizio della comunità anche attraverso questa strada che magari non è per tutti ma sicuramente può essere un'opportunità per tanti Augusto prima di salutarti ti chiederei un commento su un fatto di stretta attualità lo sappiamo il coprifuoco è stato confermato alle 22 anche nel nuovo decreto anche se c'è stato uno scontro molto duro all'interno della maggioranza perché Salvini voleva lo spostamento alle 23 del coprifuoco tu come la pensi in tal senso? ma da papà di quattro ragazzi devo dire che sono più che contento di avere questa opportunità di farli rientrare a un'ora accettabile ma al di là di questa che è chiaramente una battuta penso che come richiamava il direttore Diego Andreatta è importante in questo momento non allentare troppo le briglie se vogliamo usare questa metafora ricordarsi comunque come fa anche il ricercatore che è intervenuto per FBK parlando dei vaccini che abbiamo avuto anche e ci sono tuttora tanti lutti e sofferenze e anche da noi la situazione sembra verso un miglioramento ci sono situazioni del mondo dove invece la pandemia colpisce ancora duramente proprio ieri ho ricevuto un messaggio Whatsapp da uno dei nostri missionari trentini da Manaus in Brasile dove la situazione è drammaticissima quindi responsabilità rispettiamo ancora per un po' il coprifuoco e avremo sicuramente modo poi di recuperare in futuro probabilmente il Brasile è in assoluto il paese più duramente colpito proprio dalla pandemia tu Augusto prima di salutarti ti chiedo un'altra opinione tua personale questa settimana c'è stata la riapertura di bar e ristoranti negli spazi outdoor negli spazi all'aperto tu hai visto dei comportamenti comportamenti corretti andando in giro? ma direi in generale di sì tra l'altro c'è una bella immagine nella rubrica del nostro Gianni Zotta il click in cui si vede appunto un ristoratore che allestisce il tavolo all'aperto e credo che in generale i comportamenti siano corretti quindi continuiamo così e sicuramente usciremo bene da questa situazione così drammatica io ringrazio Augusto Goio giornalista di Vita Trentina che anche questo giovedì ci ha aiutati proprio a sfogliare insieme a voi le pagine del settimanale di Ocesano grazie per il tuo contributo come sempre però è...